Il diritto tattico era preciso proprio perché Lorenzo doveva giocare a sinistra a un'asse più vicino a Milik perché fondamentalmente a un'asse a sinistra non ci vuole giocare, semplicemente per quello. E allora Lorenzo si è reso disponibile, tra l'altro è una cosa che sa fare molto bene, tra l'altro l'ha fatta molto bene secondo me perché ha unito qualità e quantità alla sua prestazione e un'asse si descendrava un po' più a destra perché preferisce quella zona di campo. Abbiamo avuto, diciamo, ci è stata tolta l'opportunità perché Zelischi ha avuto la febbre in mattinata allora si poteva pensare anche a uno Zelischi a sinistra ma con la febbre abbiamo avuto un problema in meno allestire la formazione. Grazie. 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 Grazie.